Mi serviva un divano letto e quindi ho iniziato come tutti da Google, ho messo divano letto ottima qualità ed è apparso questa Berto e mi appariva sempre però indirizzi del nord, quindi così ma io sto a Roma, dove lo trovo Berto a Roma? Quindi poi ho fatto Berto Roma e mi è apparso questo negozio e ho trovato una ragazza gentilissima, io capivo poco di divani letto, quindi quasi zero, e in 4 e 4, 8, cioè più o meno una mezz'oretta, ho preso un divano letto comodissimo, ci dormo anche ogni tanto perché mi piace che è una piazza e mezzo comodo e sono rimasto entusiasmato dalla gentilezza, la cortesia e soprattutto che mi ricordo il trasportatore. Mezz'ora prima di arrivare a casa mi ha detto tra mezz'ora sono da lei, che a Roma è una rarità che ti avvertono così, ed è stato perfetto, è stata una delle esperienze di acquisto migliori che abbia mai sperimentato in vita mia, per la gentilezza di tutti, dalla ragazza che mi ha servito qui al trasportatore, sul trasportatore sono rimasto perché è stato proprio una cosa maniacale quasi, maniacale.